eccoci qua qualche altro video oggi il 27 del mese di giugno 2019 oggi è arrivato un pacchettino anzi due comunque parliamo cominciamo col primo allora questo un impugnatura angolabile regolabile in angolazione niente di che niente di grandi marche no cinque posizioni so quella verticale due anteriori questa impugnatura qui abbiamo il mio fucile atsan escort mp ats telescopic stock mp automatico dotato di un vecchio punto rosso della tasco un vecchio tasco pro point l'arma è già scarica quello ho verificato poco fa e allora vediamo veniamo a noi questa ancora questa impugnatura angolata era montata qua mi risultava abbastanza scomoda troppo avanzata e allora che cosa ho fatto ho preso su internet su ebay un altro esemplare di queste impugnature angolate fisse da pochi euro in realtà con l'impugnatura c'era l'impugnatura e il poggiapollice qua mi serviva solo l'impugnatura angolata non è granché da pochi euro meno di quattro euro spedita però però così ha un arresto per il dito indice degli incavo secondario per le altre tre dita della mano il pollice lo poggio lungo la carcassa così facendo mi sono riuscito a montarlo più arretrato sfruttando l'elasticità perché l'elastina è curva l'ho leggermente bombata comunque sono riuscito a montarlo arretrato e mi permette adesso l'ho montato oggi un'imbracciata migliore e questo è la prima breve video di oggi